specialmente di questi tempi dove i costi sono diventati folli quindi improvvisare oggi è diventato veramente un peccato mortale molte persone sono confuse molte persone invece fanno ricerche ma poi tendono un po a mettere un pezzo di qua un pezzo di là ma questo fa continuamente perdere tempo e deludere un po le aspettative dall'altra parte la concorrenza ragazzi aumenta aumenta e in un mercato del genere alle volte sono società che hanno prodotti servizi meno qualitative rispetto che i nostri che però comunicano meglio e quindi magari vincono rispetto a una concorrenza che dall'altra parte è sempre più spettata quindi ragazzi improvvisare è veramente diventato un peccato mortale che bisogna assolutamente evitare